Ama e sarai benedetto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Oggi celebriamo l'ultima domenica del nostro tempo liturgico, che è la domenica di Cristo, Re dell'universo. Una domenica bellissima dove mette al centro il Signore Gesù. Matteo 25, 31, 46. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria e tutti gli angeli con Lui siederà sul trono della Sua gloria, davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, ho assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti. E il Re risponderà a loro, in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra, via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non lo avete fatto a me e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti invece alla vita eterna. Amen. Carissimi, eccoci giunti all'ultimo Domenica del Tempo Ordinario. Infatti la prossima Domenica inizia il nuovo anno liturgico con il Tempo Forte che per noi è l'Avvento. Quattro settimane che ci preparano al Natale. Vediamo innanzitutto la bellezza del cristocentrismo, Cristo al centro dell'universo della nostra vita cristiana e oggi in Matteo un Cristo che è giudice, un Cristo che alla fine di tutti i tempi giudicherà secondo quanto è stato fatto. Ma il giudizio non è quello che noi pensiamo o quello che abbiamo sempre pensato. Il giudizio è evangelico. Quando Gesù stesso dice davanti a Lui verranno radunati i popoli e Lui separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, i buoni dai cattivi. In realtà, cari amici, noi vediamo che la giustizia di Dio e il suo giudizio è un giudizio esclusivamente basato sull'amore. Quindi non è un giudizio temerario attraverso il quale ci dirà cosa hai fatto, cosa non hai fatto, ma soprattutto sarà un giudizio che di certo dirà cosa hai fatto, ma dell'amore. Noi molto spesso invece pensiamo legato a certe opere, quindi quella teoria sulla giustificazione in base alle nostre opere, ai nostri meriti, alle nostre preghiere, a quello che abbiamo fatto in ambito spirituale. In realtà Gesù dice certo che vanno bene quelle cose, ma a me la cosa che più interessa è quanto tu hai amato. Amore preso in senso semitico e tradotto col greco agape, che non è filia, non è eros, amore come donazione, amore come un andare incontro al fratello al fratello e alla sorella bisognosa. Gesù dice ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. Verso coloro che hanno avuto sete, a coloro che erano stranieri, che erano nudi, che erano in carcere, quanto è importante comprendere che il metro attraverso il quale saremo giudicati è l'amore e l'accoglienza. Capite che cambia tutto, non sono opere in quanto opere, ma è amare come il Padre ci ama e come il Figlio Suo ci ha amato qui sulla terra. Lo Spirito Santo è amore riversato nel nostro cuore, nelle nostre vite, quindi oggi prendiamo coscienza che ciò che dobbiamo davvero fare nella nostra vita, oltre a pregare, ascoltare la Sua parola, vivere in comunità, in amicizia, ma è soprattutto amare. Ecco perché lo slogan di oggi che ho voluto scegliere è proprio questo, ama e sarai benedetto, perché Dio vuole che il nostro cuore manifesti il Suo amore. Quante volte noi diciamo ma io non sono in grado, non sono capace, non ce la faccio, non me la sento, però abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che è stato riversato nel nostro cuore in quanto cristiani ed è Lui che ha questa capacità di estendere il Regno di Dio attraverso il nostro amore, i nostri gesti, le nostre parole. Allora abbiamo davvero bisogno di conversione, convertiamoci all'amore di Dio, non stiamo parlando dell'amore in generale, la pace in generale, l'amore, l'agape di Dio. È un donarsi all'altro senza condizioni, senza sperare, chiedere un contraccambio. Io amo perché Dio mi ama, io vesto gli altri perché Dio mi ama, io aiuto i bisognosi perché Dio mi ama, non per farmi vedere, non per ricevere la ricompensa, ma perché io stesso ho fatto esperienza che Dio è amore nella mia vita. Ecco quanto è importante quindi sapere che su questo, sull'amore, saremo giudicati. Amiamo più che possiamo. Non hai la forza, non hai la capacità, sei fragile, non ci riesci, non lo vuoi. Prega, invoca lo Spirito Santo, leggi la sua parola e Lui stesso entrerà nella tua vita e amerà attraverso di te. Allora vi invito, preghiamo lo Spirito Santo dicendogli Vieni Spirito Santo, riempi il nostro cuore, riempi la mia vita oh Spirito Santo, io ho bisogno di te, ho bisogno di imparare ad amare, imparare a donarmi agli altri. Spirito Santo, riconosco le mie fragilità e povertà tutte quelle volte in cui io ho chiuso la porta a coloro che bussavano, ho chiuso il cuore, ho chiuso la mia casa agli altri, agli amici, ai parenti, sciogli il mio cuore Spirito Santo, aiutami ad amare e donami quella gape di cui ho bisogno, quell'amore che Gesù stesso ha avuto sulla croce per me. Vieni Spirito Santo, a te Gesù sia l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi ama e sarai benedetto. Diamo la priorità all'amore, diamo la priorità all'invocazione dello Spirito Santo che è amore puro e che è riversato nel nostro cuore ci fa parlare, agire secondo la misericordia di Dio. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. Parla Signore perché il tuo servo ascolta Parlami Signore Ti ascolto Parla Signore perché il tuo servo ascolta Parla Signore Parla Signore Grazie.